Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, mi è tornata la voce finalmente Oggi sono qui per fare un altro ask, siccome vi sta piacendo un sacco l'ask Samira Oggi sono qui per farne un altro ask Ci sono davvero tantissime domande, però vi rispondo solo alcune di queste domande Iniziamo con la prima domanda La prima domanda di IS09 ci chiede Hai mai preso 5 in matematica? Ma proprio la materia, che odio Sì, ho preso, sapessi quanto 5 ho preso Seconda domanda Sei mai stata bocciata? No ragazzi, questa è la bellissima notizia, sono stata promossa 8,10 credo, non mi ricordo Sì, 8,10 E niente, sono stracontenta di questo Terza domanda, che sono molto contenta di Iaizam0906, trattino basso, ci chiede Hai mai fumato una sigaretta? Come avevo già detto, no La quarta domanda di ASIETTA09, trattino basso, trattino basso, ci chiede Sei stata ammessa all'esame di maturità? No Perché non sono ancora alle superiori Ed è quindi, cioè, è quindi questo è il risultato 8,10 e ho finito le medie Quinta domanda Sei mai stata fidanzata per tanto tempo? Ma sentite, un po' di privacy Quindi no, 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 non sono stata fidanzata per tanto tempo E niente ragazzi, spero che questo video vi piaccia Se così mettete un pollicione in su Cliccate la campanellina e attivatela Perché così potete essere aggiornati nei miei video E Samira vi saluta con tanto amore Ciao